Vai, abbiamo quindi la nostra Winners Finals fra Genarog e Max Matchup Pit contro Mario Genarog decide di non sapere neanche da quale è girato Quindi downprop, smash Tipo prima e ultima combo che vedremo in sto stock da parte di Pit Visto che il combo di Pit fa schifo Infatti vedete Quanto capire Che fono Anfero, a per C'è un attorno I due portaggi Axe che sta spavendo Veramente Al momento Questo pit Amplo Upyilt Non ne trovo Un secondo Qui mi fai throw Lo mando offstage Lair Rub Dunpro Deer Ed ecco Lapsmash A prendere il salto Dal bordo Di Max Pericoloso qua General Che deve Tondare Ottimo La combo qua Da parte di Mario Che ora Non è più stato toccato Dall'avversario Da quando ha perso lo stock Uno dentro Dunpro Drop smash Che però fa soltanto 13 Comincio soltanto con l'ultimo colpo A causa della rage Comincio questa pit Mesh Fatto molto male Che se tornare Su stage qua Tenorog Riesce a punire Però questo up smash Nel Smashing Era troppo lento Ottimo momento Un mal momento A parte di Max Che però Ancora non riesce a trovare Questa stock Fondamentale Per cercare di guadagnarsi La vittoria Puteva trovare Jebloc lì Peccato Troppo lento A reagire Al 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 Oh Ottimo Il phase smash qua Trovo ancora Altro percentuale Su Max Oh Finalmente Lo stock Da parte di Max Su Genaro Che il 92% Su Mario Realmente un deficit Da qui Non sarà facile Di recuperare Ah Mario Chiaramente Un PG assai migliore Di un split E con la rage Può fare Gran bugate Genaro Che cancro La piattaforma Di smash Trova un po' di danno Qua Adesso Max Ma viene mandato Offstage Dalla background E trovate la smash Che dopo 4 minuti Di game Dal 1 a 0 A Genaro Raga Datemi il cambio Stiamo in il secondo game Su Battle Stas Stas Stato Stas 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 No Quindi Però Mario Finisce Con un buon momento Dr Da Metterà un buon Ottima quale combo la parte di Hux con questa Pair D'amplo Pair ma non Meteora Mi sono andato quindi al... Quasi è andato troppo in basso per recuperare Quasi con tanta bocce Quasi si corre da parte di Hux Generog sembra aver trovato una buona apertura sull'avversario Alla moritina la parte Max Si interrompe il momentum Generog Si trova in situazione favorevole Scalcato da Mario Ottimo lap smash dopo l'air dodge forzata di Generog Ottimo le combo qua adesso a parte di Max Mi sembra star guadagnando una lead A certa importanza Deveva diretti Segui il'appare Su Wright Quasi è un'asfolio E' un'asfolio Quasi stavo per mancare in criatura Quasi sono i pistoli da parte di Maxx, ma ancora non lo trova, ci sono i primi ultimi attori. Finalmente qua la kill, ma la percentuale alta sicuramente sarà un gran problema a recuperare. No, Maxx, quindi qui è in lato G. Ottimo lap smash, guarda parte di general che comincia a giocare l'avversario, ottimo. Ottimo lap. 170 per cento ma è o questa è una costante piccolosa non approfitta ma 1 pari 1 pari e lascio il commento al bondex quindi 1 a 1 per andare contro Margot vediamo dove ha intenzione di andare ora il manicomio, il manicomio vanno su fine 3, 2, 1, GO! Oh Vengono da parte Anni Porta La probabilità in questo Buono Eh E' una roba Riesce a comprare Non so che non Riesce a venire la ronda Dale NON trova il Dale Questo è stato Come un Dale Però Per esempio Il grande l'avversario Infatti A sterla Gli altri giochi a tirare il campo Più verso Ma è scappato Stagendo la roba Questa è l'intaglio Questa è la cosa 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 La città La La Smashed Mario Inizia a sentirlo Ecco Il becchio Da partigiano Però non lo uccide Muola via Pagano Ma Uuuuuh Questa è la cosa Pari qua Perché è molto tesa La mia La smashed Mario Potrebbe uscire E' be' Speramente Invece Arrivale a mezzo E' uccide Lange, Mario, Mario, dovere Decide, c'era no Ottimo set smash E set completo Ci aspettiamo come la vera Questo secondo stock Al like combo no Cerca delle cose che però non funzionano E viene punito dal genere Ah qui Trova qualche altro danno E cerca una caffa Coraggiosa Però viene Lo mette in disavantage E viene Un scontro molto equilibrato Non nessuno usa troppo Le combo Durano Giusto Ok adesso C'era abbastanza bruttina Per genere Marcello sta tenendo Fuori stage Ottimamente Vediamo Ne riuscirà Monique che ha pale Altra pale Non connette Col back Ma Riesce a tenerlo In aria Ecco No invece no Ora Scontella Dalla parte del manico Generog Che Riesce ad avere Trovare un momento Per tenere L'avversario in aria Adesso Generog Ha cercato Un jet block Non l'ha trovato Qui ha cercato Anche una Abitura una Ries Delle dodge Però Non c'era Spono e rientro Parti di generog A pale Quasi uccide F draw Vediamo se arriva In gimp Non arriva Kale Spaziato Ottimamente La parte di generog Non riesce a colpire Col Oh Capisci un ultimo Il colpo del nair E continua a tenere L'avversario in disavantaggio Vediamo Buona questa Pivot grab E Brutta di high Forse da parte Di marks Che Sono Sorpreso Da questa Pivot grab E 2-1 Per generog Vanno su stream Il matchup Rimane lo stesso Vorrebbe essere A favore Di Mario Chiaramente Però Ho dato Lo scuro Ho dato Il primo Soprario di Tirito Sgoccia Questo Potrebbe Mio Sgoccia La lead Però È Dalla Rossa Non viene punita Non viene punita Nuovamente C'è È Già Per Ora Però Ho Un Pro Nuovo Con la Di Già E Deput Quando Lui E Con Pu Per Pu 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 Di Pu 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 Ma Pu E' un po' di più. Che è un lancero? Dici adesso. Sì, arriva in Dunk sulla gea sbagliata difenda. Spergavana di Sleeds deve essere ruato. Eccamo adesso che si è giocato. Adjump. Buonissimo! Tutto il mezzo! Mette buono! Non si sa il dodgiare questa live combo! Questa... ...totteramolo... 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 ...e riporta... ...un momento... ...dennaro... ...fare qualche danno... ...ah, buono... ...degare il lazzanfro... ...nuevamente... ...mette smash! ...e che fai? ...questo vuole... ...degare il palermo... ...tanto piano piano... ...pende qualche altro danno... ...e anche qualche altro... ...degare il palermo... ...molano questi... ...nentre... ...molano questi... ...degare... ...neredo! E' bellissimo questo tech chase da parte di Markz, con la smash! Cosa? Intanto sparlano di Markz. Eh? Amici falsi. Vediamo se Genaro Grimarrà con Beat. Hanno ditto? Sai vero che il Bumby non ha mai vinto il ditto? Eh? Ma il Bumby non ha mai vinto il ditto. Game Team, però! Vabbè, rimane Mario. Esattamente. Come here. Ehm, sì. Ho! è stato un tag per ok 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 di cancellare un pochino e non lo puoi mettere cazzo che non ha funzionato il stressore 2 pari 20 minuti evitare però adesso si rimeca però 107 20 a favore in ogni momento ma io trovo una grab ma non riesce a colpire e non la guarda vabbè è un mesh ottimo è un hit che uccide antel è è ritornato a terra visto che è side B adesso ci sarò ci sarò non ho fatto un lavoro da tenere fuori Mario una piattaforma sicuramente ma che se la che deve essere va bene questo penso mi sento a me che ho vittuato tanto così da portare pareggiare gli stock è un troppo ma piattaforma non permette auto fatto basta save jump prova jump non è 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 ha paura no ancora vivo 160% non viene capato manca un brutto errore da parte di Mark qui poteva finalmente trovare secondo stock è il primo stock save ancora niente grazie chi lo sa non trova il punish questo hit è veramente sfuggevole però che non uccide ancora veramente non uccide mai quella tro arriva finalmente lo stage spike impeccabile addirittura e il taunt ma manca ormai 50 secondi e 86% di danni sono tanti nel 100% di danni sono tanti da recuperare almeno di non trovare una randomizzata 109 30 secondi Mario che non riesce a entrare in pit arriva lì a pit non basta non riesce a compare utiliosamente altri a fail futtul non c'è la lancia block 20 secondi arriva la fail altro a fail altro a fail non riesce a tutela dun pro non trova il dunk 5 secondi 4 secondi 3 secondi time out vittoria per generog ai danni del povero max che ha dovuto subire questo camping sprenato generogli dice non fare così intanto max si dispera ci vediamo quindi nella grand final no dusel semis fra ben vinto non ho capito ben vinto ok midoris contro oro non non non